Stefano, di cosa si occupa l'ecologia profonda e che cosa è? L'ecologia è la scienza che si occupa dei flussi di energia nell'ambiente. L'ecologia profonda è un passo avanti, ovvero è considerare insieme l'ambiente in cui viviamo e il nostro ambiente interno. Possiamo dire che l'ecologia profonda è l'ecologia dello spirito. Si occupa di unire le più antiche conoscenze e le più antiche vie di saggezza riguardo ai nostri legami con la natura con le più moderne teorie scientifiche. E quindi è una via a tutto tondo per ritrovare il nostro posto nel mondo, ovvero per ricollegarci a tutte le nostre relazioni, alla rete di relazioni che ci rende tutt'uno con il mondo di cui facciamo parte. Profonda perché va al di là dell'ecologia superficiale che pensa di poter risolvere anche i problemi del mondo soltanto attraverso interventi di tipo tecnico, politico o sociale. In realtà dobbiamo proprio convertirci, convertire il nostro modo di vedere il mondo a un nuovo modo di vedere che nel contempo è il più antico che esista. Facciamo un esempio. L'ecologia oggi dice che dobbiamo passare dall'uso delle energie fossili, ovvero quelle che vengono dal sottosuolo, quindi quelle antiche, quelle che saranno esauribili, il petrolio, il carbone e così via, alle energie rinnovabili per poter reggere questo modello di sviluppo. Allo stesso modo l'ecologia profonda dice che possiamo ritrovare dentro noi stessi delle fonti di energia invece rinnovabili che sono quelle che ci sono sempre esistite, il sole, l'aria, il vento, l'acqua, il calore della terra. L'ecologia profonda però non è soltanto una scienza ma è un modo per andare a trovare queste forze e queste energie dentro ciascuno di noi, perché ciascuno di noi ha una fonte inesauribile di energia al proprio interno e attraverso le pratiche dell'ecologia profonda si può andarle a incontrare. E lo si fa facendo delle cose molto 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 semplici, cioè andando a rincontrare il proprio corpo, che è come la terra, andando a rincontrare il proprio respiro che è come l'aria, andando a incontrare la propria energia interiore, la propria energia del movimento che sono come l'anima e andando a incontrare anche quei momenti particolari in cui abbiamo un senso di contemplazione verso tutto ciò che ci circonda, ovvero siamo in contatto con il tutto. L'ecologia profonda, proprio poi per raccontare che cos'è, è un filone filosofico e di studi che parte nel 1973 e che distingue appunto fra un'ecologia soltanto superficiale e una che invece va a toccare quelli che sono proprio le più profonde interrelazioni che abbiamo con il mondo. Stefano, ci hai parlato di pratiche, pratiche di ecologia profonda. Allora, quali sono e da quali fonti attingono queste pratiche? Allora, attingono da una parte da antiche conoscenze come quelle che vengono definite sciamaniche, ovvero di quei popoli che provengono da quei popoli che sono sempre vissuti in relazione stretta con la natura e che tuttora sanno quello che la scienza ha scoperto soltanto di recente, ovvero che ogni cosa è contemporaneamente materia ed energia, che ogni cosa è contemporaneamente staticità e movimento. e gli antichi sciamani e quelli che ancora adesso sono genuini sciamani sanno che noi possiamo trasformare il mondo e attraversare il confine fra quello che riteniamo il nostro mondo comune e quelli che sono altri mondi che in realtà sono sempre presenti in ogni attimo qui intorno a noi. L'altro filone è quello delle antiche pratiche che vengono dall'Oriente, soprattutto il taoismo, che è la versione più vicina alla natura delle antiche arti di conoscenza dell'energia e della natura che viene dalla Cina, e il tantra, ovvero quel filone dello yoga che studia la costituzione dei corpi sottili. Tutte queste pratiche nell'ecologia profonda vengono distillate come in un percorso nuovo adattato ai giorni nostri ed è in relazione molto stretta con pratiche come la bioenergetica, l'uso cosciente delle energie e l'immaginazione creativa.